Ciao, io sono Pietro, vorrei andare al Lago delle Pate, sono molto contenta di andare. E adesso... Salgo. Salgo. Ciao, sono tornato. Era molto bello, abbiamo saltato il fiume, saltando sopra le pietre, e abbiamo fatto di tutto. Siamo passati nell'acqua altissima e poi siamo tornati indietro. Ciao. Siamo passati nell'acqua altissima e poi siamo tornati indietro.